Provo speranza, non posso dire di provare gioia perché con tutto quel che è accaduto nei mesi scorsi, con la sofferenza che la nostra comunità, le nostre comunità hanno vissuto, non si può parlare di gioia, ma si può parlare sicuramente di speranza, di speranza verso un ritorno rapido ad una nuova normalità. Però c'è anche il sentimento in qualche modo del lutto di quello che abbiamo attraversato. Nel suo tempo è necessario ripartire con grande coraggio, con grande forza, siamo consci che questo è un piccolo segnale rispetto alla grandezza del nostro settore lavorativo. E che adesso non pensiate che metto le mani avanti, un po' sì, un po', le metto in alto e dico c'è, la stiamo facendo. Grazie.